Giulia. Leonardo. Ci siamo conosciuti a dicembre e da là abbiamo cominciato a frequentarci e poi ci siamo messi assieme. E da quanto tempo state insieme? Tre mesi e mezzo. Sì, la prima volta siamo usciti come amici e basta. E quando è stato il vostro primo bacio? 24 dicembre. Al cinema, al Warner's. Qual è il regalo più bello che ti ha fatto fino ad ora? Una collana. Il braccialetto. La vostra canzone è il vostro film preferito? La nostra canzone è una canzone di Robbie Williams e il nostro film preferito non ne abbiamo. Il ricordo più bello, la giornata più bella che avete trascorso insieme? La più bella e la più brutta che è stata Capodanno. Sì, perché è stata una roba, però poi abbiamo risolto. Sì, perché è stata una roba, però è stata una roba, però è stata una roba.